Ed ora, brano finale, Ander Schoenen Blaue Donau sul Veldamubio 2, musica di Johann Strauss. Johann Strauss Iurio trasformò il balza da semplice danza di origine popolare in ballo dallo stile brillante e vivace. Il balza viennese divenne l'espressione della ricca e spensierata società borghese della Vienna Spurgica della seconda metà del XIX secolo. Sul Veldamubio 2, che ascolteremo questa sera, può quasi considerarsi un secondo himno nazionale austriaco. E si potrà notare come l'introduzione sia diversa nel carattere e nello stile del balza vero e proprio. È inizialmente lenta, solenne e non in tempo di balza, quindi diviene veloce e leggera, concludendosi con una pausa di sospensione. A questo punto inizia la sezione centrale, a ritmo di balza, formata da una sequenza di dieci temi musicali dal carattere ora di balza, ora dolce e sognante. Segue infine una punta, in cui sono ripresi in forma più stregata alcuni dei temi principali. Ascoltiamo allora Ander Schölder Plao Donato. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.